Anticipazioni tempesta d'amore, trama puntate, venerdì, 11 marzo 2022. Maya incontra Shirene, sorpresa, le annuncia che Hannes, ha trovato un biglietto per il ballo in maschera, anche per lei. La giovane è felicissima. L'entusiasmo si spegne subito, quando poi la ragazza ripensa, alla notte trascorsa con Florian. Cornelia sorprende Benny, con un evento culinario, nella cucina del Sombichler. Nonostante le preoccupazioni iniziali, cucinare insieme contribuisce a rinsaldare, il legame madre figlio. Maya e Hannes, non vedono l'ora di partecipare al ballo, e decidono cosa indossare. Alla fine, non sapendo ancora cosa mettere, pensano bene di sorprendersi a vicenda. Quando Hannes, mostra alla Fontalheim il suo costume, lei si accorge di qualcosa. Durante un'intervista, a Rosalie viene chiesto qualcosa, contro Christophe. Lei schiva la domanda. La giornalista, fa apparire il Salfield, come l'unico colpevole. Grazie a tutti. Grazie a tutti.